Oggi sono venuto semplicemente per rendere omaggio a un grande Papa che è stato un grande teologo della religione cattolica, della fede cattolica. Lui parlava, era un teologo, parlava di teologia in modo semplice. Papa Benedetto, diciamo, è un Papa che abbiamo nel cuore per tanti motivi. La sua umiltà, la sua fragilità, debolezza, è stato un ottimo parlo secondo me. Noi siamo di Spagna, siamo spagnoli tutti. Abbiamo venuto qui a fare un viaggio solo per vedere tristemente morto il Papa. Abbiamo avuto l'occasione proprio di incontrarlo da vicino, quindi oggi tornare con tutta la famiglia dopo tutti questi anni è stato un po' un tornare a dirgli grazie. È stato doloroso quando lui ha lasciato perché ci rendiamo quanto è stato veramente saggio. Non era, tante volte viviamo per i ruoli, no? E lui, no, lui ha capito che il suo ruolo da in quel momento in poi era di pregare per noi, per la Chiesa. Noi più o meno in un'ora e mezza siamo riusciti a entrare in Basilica e a fare il momento di preghiera davanti al Papa e poi uscire. Grazie a tutti.